E' Vincenzo Caputo, il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Napoli, ad eleggerlo l'Assemblea degli Imprenditori Under 40 che per l'occasione ha fatto registrare il record storico di votanti. Ben 111 iscritti all'Associazione di Palazzo Partanna hanno depositato la scheda nell'urna per scegliere il nuovo leader del gruppo, tra Caputo e l'altro candidato, Luigi Sibilio. Alla fine l'ha spuntata Caputo con 59 preferenze contro le 51 dello sfidante. Ma ascoltiamo quali sono le priorità del neopresidente. Il primo obiettivo sarà quello di lavorare affinché il gruppo possa essere sempre più partecipato, competente, autonomo ed autorevole. Se così è, se così riusciamo, attraverso il confronto, attraverso il dialogo, attraverso le individuazioni, di soluzioni ai problemi che possono essere tutti i nostri associati, riusciremo sicuramente a creare un gruppo che è un referente autorevole rispetto a tutti coloro con i quali si va ad interfacciare. Questo sarà il primo obiettivo del mio operare. Altro elemento fondamentale sarà il tema della formazione del mondo del lavoro. Non possiamo assistere inermi rispetto al fatto che i giovani, 50.000 ragazzi tra 24 e 34 anni, laureati, sono fermi in questa regione e stanno decidendo di voler restare fermi, non voler attivarsi per fare qualcosa. Dobbiamo infondere fiducia, dobbiamo dare senso di cambiamento, di prospettiva. Su quello sicuramente come gruppo giovani ci impegneremo tantissimo. 35 anni, dottore commercialista, amministratore unico e socio della General Fincap SPA. Caputo succede ad Andrea Bacarac, sotto la cui presidenza aveva ricoperto la carica di vicepresidente del gruppo e sarà alla guida dei giovani imprenditori per i prossimi tre anni. L'Assemblea ha eletto anche nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Luigi Ambrosio, Mariella Bottiglieri, Luigi Cacciapuoti, Vittorio Ciotola, Amedeo Giglio, Guglielmo La Regina, Marco Mensitieri e Susanna Moccia.